Allora, questo qui, vi voglio dire due parole su di tetto, ho visto prima, ci sarà che gorgheggiavi che cantavi proprio per scaldarvi di pure il microfono. Allora, Davide ha 23 anni, arriva dalla provincia di Padova, anche lui, Galzignano Terme ha bisogno di Leggio perché canta una canzone molto bella dei Nomadi che si chiama Tutto a Posto. E chiaramente per non sbagliare parole si pette il Leggio qui. Vogliamo accogliere con un grande applauso il nostro concorrente numero 6. Vai Davide, tocca a te, Tutto a Posto dei Nomadi. Le mie gambe oramai sono stanche e vorrei dare un po' di sonno agli occhi miei. Scende l'oscurità, c'è una casa più in là, il mio viaggio adesso finirà, è per lei. Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via, nel passato e nel presente corre già. E vanno indietro gli anni miei e si fermano con lei, che la mente mia non ha lasciato mai. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché... Le colline più in là e la strada che va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato la notte azzurra intorno a me, luglio fra quei rami e il profumo dell'estate ancora c'è. E qualche passo ancora e poi so che mi preparerà, una cena calda e fuoco accenderà. C'è il silenzio fra noi, guardo negli occhi tuoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché... Tutto è come quando me ne andai, tranne lei. Ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che... Il mio posto nel suo mondo più non c'è. Ma tutto è a posto oramai, anche se ho capito che... Il mio posto nel suo mondo più non c'è. È il suo mondo più non c'è. Grazie a tutti.